Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. Secondo la Procura di Palermo tutti gli imputati coinvolti meritano di essere condannati a cominciare da Rosario Crocetta per l'ex Presidente della Regione. È stata chiesta una condanna a sette anni di carcere. Grazie a un bando cucito su misura in cambio di tangenti sarebbe stato consentito alla Compagnia Ustica Lines di mantenere il monopolio nei collegamenti maritmi con le isole minori. Sette anni di carcere per aver favorito la Compagnia Ustica Lines sulle tratte per le isole minori è la richiesta che la Procura di Palermo ha formalizzato a carico dell'ex governatore siciliano Rosario Crocetta. I magistrati palermitani hanno anche chiesto sei anni e mezzo per l'armatore Ettore Morace e per l'ex collaboratore del Presidente Massimo Finocchiaro. Tra le richieste della Procura anche una multa per la compagnia marittima di 400 mila euro. Secondo gli inquirenti grazie a un bando cucito su misura in cambio di tangenti sarebbe stato consentito alla Compagnia Ustica Lines poi diventata Liberty Lines di mantenere il monopolio nei collegamenti marittimi con le isole minori. Il procedimento era nato dall'inchiesta sull'armatore trapanese Ettore Morace patron della compagnia marittima incaricata dei servizi di collegamento con le isole considerato dall'accusa il creatore di un vero e proprio sistema di corruzione che prevedeva soldi, Rolex, borse e altri regali ai politici. Le indagini erano state chiuse nel novembre del 2019 e la Procura contestava che la società di Morace avesse ottenuto tra il 2008 e il 2014 10 milioni di euro come compensazione finanziaria di servizi di trasporto marittimo che in realtà non sarebbero stati effettuati. In particolare Rosario Crocetta nel 2017 avrebbe concesso una proroga del servizio in cambio di un contributo elettorale da 5 mila euro con cui Morace finanziò il movimento Riparte Sicilia. L'ex governatore Crocetta aveva negato di aver esercitato pressioni e di aver svolto interventi di alcun genere. Aveva poi spiegato di avere rendicontato il contributo e di aver eseguito nella predisposizione dei bandi una linea sfavorevole alla Ustica Lines. A causa dell'inchiesta Simona Vicari si era dimessa da sottosegretario. La cronaca ai carabinieri del reparto territoriale di Gela hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio di Mazzarino finalizzato alla ricerca di sostanze stupefacenti traendo in arresto in flagranza di reato per detenzione lecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un uomo 54enne e una donna di 43 anni pregiudicati di Acireale. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti nella borsa della donna numerosi involucri contenenti cocaina e crack per un peso complessivo di 47 grammi, bilancino per la pesatura, 250 grammi di bicarbonato utilizzato come sostanza da taglio e materiale vario per il confezionamento della droga. L'intero materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre gli arrestati sono stati sottoposti alla misura dei domiciliari presso le proprie abitazioni su disposizione delle autorità giudiziarie. La procura ha chiesto condanne per tutti i coinvolti nell'inchiesta sul tentato omicidio di Borgo Manfri e emersero presunti casi di estorsione. Orazio e Giuseppe Pisano padre e figlio avrebbero dettato legge nelle aree rurali tra Borgo Manfri e Mangiova qualsiasi attività doveva passare dal loro consenso compresa la raccolta della paglia. Stritolavano agricoltori e operatori del settore anche con l'imposizione di estorsioni. Il PM Fabrizio Furnari nel corso di una lunga articolata requisitoria ha tracciato gli aspetti salienti dell'inchiesta partita dal tentato omicidio di Carmelo Palmieri ferito a colpi di fucile proprio nella zona di Borgo Manfria. Secondo l'accusa venne preso di mira perché non legge ai diktat imposti dai Pisano nonostante abbia poi spiegato di aver pagato in alcuni casi. Per il PM a sparare fu Giuseppe Pisano. Palmieri rimase ferito ma riuscì a salvarsi. Da quel fatto i magistrati della procura e i carabinieri iniziarono verifiche e approfondimenti investigativi. Le aree rurali, ha confermato il pubblico ministero, erano sotto il controllo dei Pisano e qualora non ci fosse stato il loro assenso le ritorsioni non sarebbero mancate compresi gli incendi di terreni e della paglia. La condanna è stata chiesta per entrambi in abbreviato davanti alla GUP Miriam D'Amore. La richiesta è stata di 20 anni di reclusione per Orazio Pisano e di 12 anni e un mese per il figlio Giuseppe Pisano. Nella requisitoria l'accusa è ritornata sulla dinamica del tentato omicidio e su quelle che sono ritenute falle nella versione resa dagli imputati che invece negano un loro coinvolgimento. Le intercettazioni iniziarono da subito pure all'ospedale Santeria di Caltanissetta dove venne ricoverato Palmieri. Fu lui a spiegare agli investigatori che ad agire sarebbero stati Pisano. Giuseppe Pisano venne riconosciuto principalmente per la struttura fisica. Sparò con il volto coperto da un passamontagna. Undici anni e cinque mesi di reclusione sono stati indicati invece per Giuseppe Vaccaro, ritenuto direttamente legato a Pisano. Ci sarebbe stato lui alla guida della vettura sulla quale arrivò Giuseppe Pisano per poi fare fuoco contro Palmieri. Sei anni e sei mesi è la pena per Pericle Ignazio Pisano. Quattro anni e sei mesi infine nei confronti di Emanuele Pisano, fratello di Orazio Pisano. Avrebbe saputo del sistema imposto in quelle zone ma al contempo fu vittima di ritorsione da parte del fratello con l'incendio del suo caseificio. Oltre che imputato Emanuele Pisano è parte civile con il legale Giovanni Lomonaco. In rappresentanza di Palmieri ha concluso l'avvocato Vittorio Giardino. Il ferito ha scelto di costituirsi parte civile. Nell'intervento sono state nuovamente richiamate incongruenze nella linea difensiva. Gli spostamenti di quelle ore, alcuni vuoti di ricostruzione e una perizia di parte sono stati sottoposti a disamina dal legale che ha ribadito come si è emersa la responsabilità dei coinvolti. Il APM Furnari ha concluso per il rinvio a giudizio di altri due imputati, Fabio Russello e Vincenzo Alberto Alabiso, ai quali vengono addebitati solo episodi di furto in quello che fu il cantiere della Turco Costruzioni. Il difensore e l'avvocato Nicoletta Cauca ha escluso una riconducibilità ai due. In aula si tornerà la prossima settimana. Gli imputati sono difesi dai legali Giacomo Ventura, Carmelo Tuccio, Cristina Alfieri e Boris Pastorello. Due anni con pena sospesa. Il giudice Miriam Damore ha concluso con questa decisione il procedimento a carico di una donna accusata di maltrattamenti e violenze sul figlio che all'epoca dei fatti non aveva ancora 4 anni. Nel corso del dibattimento sono stati sentiti diversi testimoni e la procura con il PM Gesualda Perspicace ha ritenuto fondate le contestazioni richiedendo la condanna a 2 anni e 6 mesi. Per parte civile la Pastorello ha invece riferito una ricostruzione differente eppure sulla scorta di quanto spiegato dall'imputata che ha respinto gli adebiti. Secondo la sua versione non ci sarebbero mai stati i maltrattamenti sul bambino. Per l'accusa la donna avrebbe tenuto una condotta non consona a danno del figlio fino ai maltrattamenti. I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetto hanno avviato un serrato piano di interventi finalizzato a monitorare le dinamiche di trasporto e rivendita di acqua potabile al fine di verificare costantemente la regolarità del circuito di distribuzione sotto il profilo penale amministrativo tributario e sanitario. Sono decine le sanzioni per gli abusi in tutto il territorio provinciale. C'è chi al termine della vendita non emette alcun documento fiscale, chi invece trasporta e scarica acqua con cisterne non conformi alla normativa vigente, prive di qualsiasi autorizzazione da parte degli organi competenti e di certificazione sanitaria. Molti addirittura non sono nemmeno titolari di alcuna partita IVA. La crisi idrica che da mesi sta mettendo in ginocchio l'isola ha amplificato il sottobosco dell'abusivismo degli autobottisti, di chi cioè trasporta e vende acqua potabile ai cittadini. E così i finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetto hanno avviato un serrato piano di interventi finalizzato a monitorare proprio le dinamiche legate al trasporto e alla rivendita di acqua potabile, per verificare la presenza di eventuali irregolarità nel circuito di distribuzione sotto il profilo penale, amministrativo, tributario e sanitario. E che qualcosa di irregolare ci fosse, considerate le decine di segnalazioni di cittadini che si sono visti spesso consegnare acqua a prezzi esorbitanti e senza alcuna ricevuta fiscale, è emerso sin dalle prime indagini, che hanno consentito di far emergere fenomeni di abusivismo commerciale e in alcune circostanze la totale assenza delle autorizzazioni amministrative di legge vigenti e anche di carattere sanitario. In particolare, dall'inizio del mese di agosto, le pattuglie delle Fiamme Gialle hanno effettuato decine di controlli in provincia, dai quali sono emersi decine di violazioni di carattere fiscale, amministrativo e igienico-sanitario. Nello specifico, alcuni trasportatori sono stati sanzionati per la mancata emissione di documento fiscale al termine della vendita, mentre altri sono stati sorpresi a scaricare acqua trasportata con cisterne non conformi alla normativa vigente, privi di qualsiasi autorizzazione da parte degli organi competenti e di certificazione sanitaria. A seguito di ulteriori accertamenti è emerso anche che i soggetti non erano titolari di alcuna partita IVA e nei loro confronti sono state elevate sanzioni amministrative per migliaia di euro, oltre all'apertura d'ufficio della partita IVA relativa all'attività esercitata. Ci sono però anche gli operatori onesti, la maggior parte per fortuna, che agiscono regolarmente con regolare autorizzazione dell'ente pubblico deputato alla gestione delle risorse idriche e in aderenza con le normative che regolano lo specifico settore. I controlli della Guardia di Finanza andranno avanti anche nelle prossime settimane. E l'emergenza idrica continua ad impegnare l'amministrazione. Ieri un nuovo confronto in prefettura. Si cerca di ottenere un quantitativo maggiore per la città. E soprattutto la programmazione che si cercherà di definire pure in vista del prossimo anno in prefettura. Ancora una volta il tavolo convocato è servito a fare il punto sulla situazione idrica in città. Il sindaco Di Stefano e l'assessore Franzone hanno potuto sviluppare più punti in presenza dello stesso prefetto, del presidente Aticonti, dei referenti di Siciliacqua e Caltacqua e di rappresentanti di Eni. Siciliacqua a stretto giro darà una risposta sul possibile incremento di altri 10 litri al secondo all'area di Giardinelli in territorio di Vittoria, che già garantisce quantitativi. Attualmente la portata complessiva per Gela si aggira intorno ai 140 litri al secondo. Di Stefano e Franzone stanno cercando di ottenere l'assenso per un incremento ulteriore. Il bacino Ragoleto attraverso Eni fa fluire tra i 62 e i 65 litri al secondo. Ci sono poi pozzi pantanelli. Si vuole accelerare rispetto al raddoppio del potabilizzatore di Caltacqua, anche se gli interventi sono previsti per il prossimo anno. I disservizi di queste ultime settimane hanno confermato l'urgenza di un adeguamento strutturale della rete. Quella di Salleo, che ha subito il guasto poi riparato, sarà sottoposta a sostituzione nei prossimi giorni, come confermato dai riferimenti tecnici di Siciliacque. La situazione generale sta man mano rientrando, ma non tutte le zone ricevono forniture regolari sulla base del calendario indicato a Caltacqua. Sia l'amministrazione comunale, sia la Tidrica, la scorsa settimana nel corso di un incontro in municipio hanno preteso efficienze rispetto alla turnistica. Lo hanno ribadito in prefettura. Proprio il prefetto sta monitorando con attenzione la vicenda Gela e non solo. Si guarda ad una programmazione adeguata che attraverso i pozzi e il bacino del Ragoleto dalla prossima estate assicuri acqua ogni giorno. L'obiettivo è proprio questo, come spiega l'assessore Franzone. Ci sono problemi strutturali. Mancano almeno altri 10 litri al secondo, ma si sta lavorando affinché la prossima estate non debbano più esistere disservizi come quelli causati dai guasti alla rete. La pulizia è stata effettuata in questo periodo dagli operatori della GELAS Multiservizi. Tra le strade del complesso residenziale e la cittadella c'è stata pure una cattiva sorpresa. Sono stati rubati i cavi dell'illuminazione pubblica. La zona quindi nelle ore serali e notturne si troverà al buio. Una segnalazione sulla vicenda l'ha fatto il consigliere comunale Gaetano Orlando, a sua volta residente alla cittadella. I ladri di rame non si fermano davanti a nulla, seppur quelle strade siano assai transitate. E non ci sono ancora molte certezze sul destino dell'Unione dei Comuni per i finanziamenti. Per il sindaco Di Stefano è necessaria una struttura completa e spinge per incontrare altri sindaci ed avere un confronto con la Regione. L'Unione dei Comuni per la nuova programmazione dei finanziamenti 2021-2027 non è partita sotto i migliori auspici. Le tappe iniziali lo scorso anno sono state bruciate e sono stati osservati gli adempimenti previsti, compresa la strategia trasmesse a Regione. Da allora ben poco si è mosso, seppur si sia insediato il Consiglio dell'Unione, con esponenti e l'Assemblea cittadine di Gela, Niscemi e Butera. Dagli uffici palermitani non arrivano troppi input e l'Unione attualmente non ha una struttura vera e propria. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha deciso di convocare i colleghi Conti e Zuccalà. Secondo Di Stefano l'Unione può andare avanti solo se avrà un'organizzazione ben definita, servono un revisore e un dirigente anche per il bilancio, altrimenti per Di Stefano sarà tutto inutile. Senza uno strumento finanziario non si potranno effettuare assunzioni neppure con i programmi che attualmente consentono di accedere a questa possibilità. Per Di Stefano ognuno deve assumersi una parte di adempimenti e chiederà così che i tre comuni mettano a disposizione un primo ammontare economico, almeno 30 mila euro per andare avanti e dare una struttura. In caso contrario il sindaco non esclude anche un'uscita dall'Unione dei Comuni proprio di Gela. Ritiene che un'Unione vuota non serva a nulla. Di Stefano è pronto a proporre l'ingresso del comune di Mazzarino ma solo per i piani di zona e non per i finanziamenti e la programmazione 2021-2027. Non è chiaro infine se in settimana si terrà una seduta del Consiglio dell'Unione. Il presidente Angelo di Mensa tende di avere in aula i tre sindaci affinché possano esserci vere certezze sul prosieguo. Va eletto il presidente della Giunta e Di Stefano è convinto che sarà necessario un tavolo direttamente in regione. Il treno della nuova programmazione può assicurare sul territorio finanziamenti per non meno di 80 milioni di euro. Attualmente l'orizzonte è reso poco terzo da una fitta nebbia burocratica e non solo. Il primo salvagente a propulsione in grado di tenere a galla quattro persone e salvarne due allo stesso tempo è stato presentato questa mattina al club nautico di Gela all'evento primo in Sicilia organizzato da Adoces Sicilia. Hanno partecipato tutti gli esponenti di amministrazione Guardia Costiera Federazione Italiana Nuoto e la cooperativa gelese di Bagnini Poseidon. È stato presentato per la prima volta in Sicilia Yousafe, il primo salvagente a propulsione autonoma totalmente radiocomandato da remoto. Gela fa infatti da apripista ad un modello di spiagge sicure che può essere adottato anche da altre realtà turistiche siciliane. Inoltre Yousafe è un dispositivo destinato a cambiare la modalità di salvataggio in mare e di persone in difficoltà. Riesce a tenere a galla fino a quattro persone contemporaneamente e a trascinare ben 240 kg, il che permette potenzialmente di salvare due persone allo stesso tempo. Viene lasciato solitamente in stand-by, quindi la posizione verticale. Nel momento in cui passa dalla posizione verticale a orizzontale si attiva immediatamente ed automaticamente. Viene guidato con un radiocomando che può essere utilizzato indifferentemente con mano destra o mano sinistra. Si guida alla persona in difficoltà. La persona in difficoltà ovviamente in quella situazione afferra un qualsiasi oggetto galleggiante dopodiché messo in galleggiamento e quindi in sicurezza si può anche riportare, se lo afferra nella dovuta maniera, si può riportare in sicurezza a riva. Yousafe è il frutto della ricerca innovativa e tecnologica europea nel settore degli accessori di sicurezza in mare ed è in dotazione al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera del Comando Toscano a partire dal 2023. Il tenente di Vascello e capo operativo di Pompamare Gela, Andrea Cicala, auspica che presto anche la Capiteneria di Porto della Città possa avere un supporto di questo strumento per la sicurezza in mare. Sicuramente i nostri assistenti bagnanti e anche eventualmente il personale del corpo, eventualmente insomma quando esseri sarà dato in dotazione, potranno trarre grande giovamento dall'utilizzo di un'apparecchiatura del genere che sicuramente li aiuterà in caso di mare forte, comunque di condizioni meteomarine avverse. Non mette a rischio l'incolumità sia dell'assistente bagnante, perché l'assistente bagnante comunque ogni qualvolta fa un intervento si mette in una situazione di rischio. Ne vediamo, ne vediamo, ne sentiamo tutti i giorni di articoli dove gli assistenti bagnanti colleghi per intervenire purtroppo perdono la vita. Quindi questo andrebbe a tutelare ancora di più l'intervento dell'assistente bagnante che appunto non lo mette in condizioni di rischio. La sicurezza delle spiagge diventa uno straordinario strumento di promozione del territorio. L'opportunità è stata donata alla città da Giacomo Giurato, presidente regionale di Adoces Sicilia ODIV. All'incontro ospitato al Club Nautico ha partecipato anche l'assessore ai lavori pubblici Luigi Didi. Noi riteniamo che la sicurezza, soprattutto a mare, sia una cosa fondamentale per i bambini, per i cittadini e per gli anziani. Quindi noi abbiamo sposato questo modello e speriamo di poter intercettare quanto più somme possibili per poter dotare tutta la nostra spiaggia di tutti questi strumenti per la salvaguardia delle persone. Speriamo questo grande sviluppo di cui ci facciamo promotori noi del Club Nautico come associazione e come istituzione. Speriamo che questo, ripeto, questo è un mezzo per dire ci stiamo proiettando al futuro. Speriamo che questa cosa, ripeto, al di là del mezzo di salvataggio vada in porto e questo futuro verso il mare di Gela finalmente si possa realizzare. Da domenica 15 settembre riprende la ZTL nel quartiere di Macchitella tutte le domeniche festivi. Il transito delle auto sarà interdetto dalle 9 alle 14 con controllo elettronico dei Varchi in Viale Corte Maggiore. Una Sicilia ostaggi dei suoi difetti ma che conserva la speranza di una rivoluzione concreta e la terra raccontata nella Scuola del Silenzio, il primo romanzo dell'attore e regista Nini Bruschetta presentato nell'ambito della rassegna letteraria Libri Vista Mare. Il racconto di una Sicilia fin troppo conosciuta, specchio e metafora dell'intero paese che traccia tutti i malanni di un sistema difficile da cambiare. Nuovo ospite della rassegna letteraria Libri Vista Mare organizzata dal Comune, dal Centro Zuppardo e dalla Libreria Orlando è l'attore e regista Nini Bruschetta con il suo primo romanzo La Scuola del Silenzio edito d'Harper Collins. Nini Bruschetta che nel cuore degli italiani rimane l'iconico Duccio Patanè, il direttore della fotografia della serie Boris, esordisce con un romanzo intenso e doloroso che nel solco della tradizione di alcuni grandi scrittori siciliani come Leonardo Ciaccia mette in scena una storia che racconta l'amara verità di una terra unica il cui disordine e l'incuria si mischiano a scenari di rara bellezza, metafora di qualcosa di più grande. Una battuta molto simpatica l'ha fatto un giornalista milanese che mi ha detto io ci ho trovato la provincia di Milano perché ovviamente quando si concentra il racconto in una micro realtà quella poi diventa metafora di realtà molto più grosse. Ovviamente l'aspetto che riguarda la Sicilia è più imponente rispetto agli altri però il luogo in cui si indaga non è soltanto la Sicilia ma è il luogo dell'onestà, è il luogo del teatro, è il luogo sociale in cui ci sono delle persone che hanno meno possibilità di altri, insomma sono tante cose. Facile chiedersi dopo la lettura del libro se esista una soluzione per dare all'isola una rivoluzione concreta. Bruschetta la vede così. La Sicilia essendo una grande regione ma è una grande terra prima di tutto, un'isola così grande che al centro sembra che ci sia il deserto, sembra che non sia un'isola, non solo ha la possibilità di cambiare ma cambia regolarmente, ciclicamente, magari alternando nelle sue città, momenti di rinascita con momenti di caduta. I vizi si perdono con grande difficoltà perché alla fine siamo un'entità, siamo un popolo ed è difficile ovviamente cambiare in questo senso, però nella storia sono cambiate tante cose e secondo me ne cambieranno delle altre. Prossimo appuntamento della Rassegna, mercoledì 11 settembre con la presentazione del miracolo dell'olio di Orazio Licandro. È tutto, il nostro telegiornale termina qui, per gli altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it, adesso vi lascio le previsioni meteo, grazie per averci seguito. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.